Il titolo del film è Un folle amore. Interverti Gaetano e Elena. Gaetano è sempre affamato, ma anche Elena. Sì? Sì? Altro interprete, il boss Pino, che sta pescando. Non si sa che cosa. Ha preso, ha preso. Sì? Sì? Pino ha pescato uno squalo. Anzi, diciamo una balena. Pino, ma cos'è uno squalo o una balena? È uno storionzo. Per me è un pesce d'acqua. Un storionzo. Un pesce d'acqua. Un pesce d'acqua. Un pesce d'acqua. Un pesce d'acqua. Vediamo come ti tira Gaetano. È una storionza. Un pesce d'acqua. Vediamo. Oh, come piace! Come piace! Ma che cavolo a vrea pescat-o? Nu se vadă, nu numai curul tău, las-o și pe ea, luminița, dă-te din copac, așa. Buu! Buu! Per favore! 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 Ese! Vedi che ti ha firmato tutto ciò che hai fatto! Sto venendo! Sto venendo! Sto venendo! Io non vedo niente! C'è la mia mia cucina mai scopta! Eh! Se vedi che io mi arrezzò! Eh! Poti sa ti ridici pe asta! Nici un bai! Ah! Sto venendo! 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 Gaetano, fai Jerry Louis! Fai Jerry Louis! Fa ca Jerry Louis! Gaetano! Gaetano! Dai Gaetano! Fa il bravo! Sono stanco! Sono stanco! Vediamo! Sono stanco! Non ho detto di baciarvi! Basta! 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 fai finta che mi prendi te dai fai finta che mi prendi te dai mi prendi te con forza fai finta che mi stai violentando mi stai violentando guarda che ti violento veramente un po di scena dai fai finta che mi stai violentando finocchio da ti filmo un po vengo troppo male io poi se filmi tu buonanotte vengo che ballo lasa sa te filmeze si pe tine ori Tino tina ori Tino tina ce face? tina vei cu piedra in balta hai bà ca ii fug peesti lui Pino tina aaa minizo da minizo guarda guarda cinepreze la vora canale 5 ciao 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 mandami un bacio Valentina Valentina tina mandami un bacino promosso ma promosso no che mi fai godere eeeh ahahahah dopo si scioglie la pellicola ahahahah 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 ahahahah